La Regione Campania ha messo sempre al primo posto le problematiche legate ai disabili, è sempre stata attenta e lo farà ancora. Così l'assessore regionale all'istruzione, Lucia Fortini, che questa mattina ha presenziato il tavolo al circolo della stampa di Avellino sul progetto Mila per il contrasto della povertà educativa. Ha parlato all'indomani della manifestazione che si è svolta a Napoli, messa in atto dalle famiglie dei bimbi disabili contro le politiche che non tutelano i diversamente abili. La Regione anche su quel versante ha fatto tantissimo, noi abbiamo raddoppiato le risorse per il welfare dal nostro insediamento, voglio solo ricordare proprio per gli studenti con disabilità che la Regione ha anticipato i fondi per il trasporto scolastico e l'assistenza specialistica. Sono fondi che il Governo non ci ha ancora liquidato, ma noi quest'anno, come lo scorso anno, abbiamo anticipato, per cui cerchiamo naturalmente di essere vicini ai territori. È evidente che poiché noi non eroghiamo direttamente dei servizi, il livello è condizionato alla capacità degli ambiti territoriali di far fronte alle esigenze delle persone.